Ok, eccoci qua. Di nuovo insieme. Sempre. Questo è il secondo video che facciamo perché siamo emozionati dal messaggio che dobbiamo dare. Esatto, perché è una cosa utile, non seria. Esatto, a cui teniamo particolarmente. Siamo capaci. Allora, siamo stati coinvolti in una cosa che noi non sappiamo fare. O meglio, diciamo che ci stiamo provando a farla la prima volta. Dobbiamo raccogliere 20.000 euro per ricostruire la mensa di una scuola. Esatto, la scuola c'è già. Cioè, ci avete già insultato, la scuola esiste. È la città reale, manca solo la mensa. Ok? E noi quello vogliamo fare. Dare la mensa. Esatto, aiutare chi costruisce la mensa e dargli 20.000 euro. Come facciamo? Abbiamo pensato di fare una serata, diciamo, di raccolta fondi, no? Quindi cosa diamo? Perché la gente non è fredda di dare i fondi. Dovranno mangiare qualcosa. E intanto vengono a mangiare gratis. Cioè, pagano. Pagano, però c'è la cena. Poi c'è anche una lotteria. Una lotteria? Con i fantastici premi, sì. Non lo sa che premi che stanno arrivando. Sì, no, c'è vero. Un sacco di persone stanno inserendo. E poi, soprattutto, la parte più interessante. Sentiamo. Dai, che già rido. Ci sono, diciamo, quattro imprenditori. Due sono qua. Uno sono io, uno è lui. Esatto. Che faranno due ore di formazione. Ok, quindi c'è Giovanni Pagliardini che parla di antisismica. Come rendere il tuo capannone resiste al terremoto. Che è un problema che abbiamo già visto che esiste. Perché a Mirandola sono anticipato. Esatto. Poi abbiamo Giulia. Giulia che si occupa di manutenzione predittiva. Sì. Un parolone per dire, ti installa degli strumenti sulle macchine che ti dicono quando si stanno guastando e quant'altro. Figo. Sì. Ma il titolo è figo, ma poi c'è contenuto? Eh, spero di sì. Ok. No, sì, ci sarà. Sicuramente parlerò un po' di come evitare di finire nell'elenco delle storie di ordinaria e follia utilizzando un ventilatore. Poi tocca a me, papà, perché sono sempre in coppia, Gianni è più noto. E parliamo di quali errori tipici bisogna evitare sulle macchine in uso, sui macchinari vecchi, su cosa bisogna fare per migliorare la situazione. Perché la situazione che vediamo in giro non è proprio facile facile. In più, io regalo, noi regaliamo un libro a testa, di quello che vi ho scritto a testa. No, io regalo proprio un paccone regalo. Un pacco. Si, si chiama kit di sopravvivenza. Ma ci metti le caramelle dentro? Ah, questa è una buona idea, magari metti anche qualche caramella. No, ma non è la prima cosa che metti le caramelle, cosa ci metti dentro? È una sorpresa, se no, regalo... Vabbè, lui vi regalo un pacco? Esatto, cioè non vi tiro un pacco, è un pacco regalo. Ok, quindi questo è per farvi vedere che esiste. Esatto. L'associazione a cui diamo i soldi si chiama Mission Bambini. Se andate sul sito missionbambini.org, vedete che è un'associazione seria. Perché l'unica cosa che noi abbiamo guardato è che l'associazione fosse credibile. Esatto. Perché metterci la faccia per come i soldi vanno a prendere il volo. Ok. Una cosa, i soldi vanno direttamente all'associazione, cioè non è che lo prendiamo noi, cioè tutto quello che pagate va là. Esatto, stiamo cercando anche di pagare tutte le spese proprio più banali, tipo appunto il mangiare per la sera. Quindi gli orari sono 17 inizia il workshop, 17 iniziano i quattro speech. Un paio di orette di formazione e intrattenimento. Subito dopo, dopo circa due ore, due ore e mezza, forse tre, c'è la cena. Sì. Ok, e poi successivamente c'è questa letteria. La letteria, esatto. La cosa, si tiene a Brescia in via Caselle 5. Corte Piovanelli. Ok. Comunque poi ci sarà qua, adesso appare in questo momento, insomma, la versione. Dai la vedo, la vedo, vedi com'è bella. Guarda, la vedo, sì, scusate. Ma cosa che sta apparendo? Questo. Questo? Questo proprio in grande così lo vedete. Fatelo apparire. Non si vede niente, cioè. Ok. Un'altra cosa, per vedere se veramente sta cucina poi quando l'abbiamo comprata arriva, il 25 maggio le aziende che hanno partecipato, diciamo, a questo evento, a organizzare l'evento, andranno a mangiare una pasta da matriciana in quella scuola. Ah, no, lo sapevo. Mia moglie sarà contentissima che mi vede a sparire il 25 maggio. Esatto. Così faremo delle foto, dei video, vi faremo vedere che effettivamente quella cucina è stata consegnata e questi bambini finalmente potranno mangiare. Voi direte, non è tanto, però per quello che possiamo fare noi è la nostra goccia del male. Guarda, ci sono tante cose, cause enormi, gigantiche, però poi alla fine, cioè secondo me, questa è piccola, ma è molto pratica perché a questi bambini gli dirà quello che è la normalità, cioè quello che era prima del terremoto. Noi facciamo questo. Ciao. Ci vediamo il 9 marzo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.